Buonasera a tutti quanti, vorrei un applauso di incoraggiamento per i ragazzi che sono lì dietro e sono non emozionati, emozionatissimi! Stasera ascolterete una selezione delle più belle canzoni pop della musica leggera Gli allievi che frequentano i corsi Voice Building Method fanno nel primo livello una grossa, forte formazione di tecnica vocale Finita questa prima parte si occupano di studiare la storia della canzone attraverso tutti i generi Studiano canzoni cercando di trovarne l'interpretazione giusta e la loro identità vocale attraverso i generi Cioè avviene che in un periodo dello studio un particolare genere musicale aggancia il cantante e gli dice Tu non mi devi lasciare più Per questo il cantante alla fine del secondo livello trova l'identità di stile, cioè di genere musicale A questo punto nel terzo livello i cantanti si approcciano alla scrittura Evelina l'ha capito, con la sua maschera di trucco, la gonna troppo corta e l'infradito Che si piace com'è e si gode i suoi settanta in barba chi le punta al dito